E andiamo subito avanti con la nostra presentazione del Master in Banking, un Master che comincia nel 2021, quindi tutti tranquilli, i governi avranno già messo a riparo tutti dal Covid. All'Uniba si comincia a gennaio del 2021 per tre giorni fino a febbraio, poi si va in Inghilterra per 21 giorni ad aprile e poi Polonia 60 giorni, maggio-giugno, Dublino, Bruxelles tre giorni a luglio. E poi si fa l'eventuale stagio, o c'è l'assunzione diretta come succede a Master in Banking, soprattutto all'interno delle banche. Il biglietto da visita di Master Europeo è rappresentato da corsi di inglese personalizzati, quindi tranquilli, anche se partite da zero c'è il corso per voi, anche se siete dei ragazzi con inglese avanzato c'è anche il corso per voi perché venite distinti tutti quanti in gruppi, da prima online e poi in aula offline. Quindi un gruppo può essere A1, A2, B1, B2, fino al C1 ed al C2. Ognuno ha il suo gruppo. Il piatto di otto, anche nel Master in Banking, è che la prima trasferta si fa in Inghilterra e quindi dopo averlo studiato online, finalmente si cerca di studiare l'inglese, laddove l'hanno inventato, cioè in Inghilterra, in maniera tale che poi quando si arriva in Polonia si arriva a belli carburati per le elezioni tematiche del banking. Quindi prima trasferta in UK, a Colchester, 60 miglia da Londra, qui carburate nell'inglese sempre in maniera personalizzata e finalmente arrivate in Polonia, dove svolgete le lezioni sia di inglese e sia di banking nella incantevolissima città di Wrocław, Wrocław the Meeting Place, la città degli incontri, una città davvero incantevole. E quindi questo è l'unico Master che si svolge a Wrocław, perché tutti gli altri, Certified English, Web Marketing, Human Resource e Turismo, si svolgono a Varsavia. Il banking si svolge a Wrocław, all'università proprio del banking, Vesha Shkova-Bankova, Grazie. Grazie.